Buongiorno a tutti, sono Dayana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session. Allora, questo video è un po' improvvisato perché avevo pensato di farlo verso novembre-ottobre, ma dopo quello che ho visto ho deciso che andava fatto subito, così via il dente e via il dolore. Mi riferisco, ovviamente, al fatto che sta uscito il trailer del sequel del Gradiatore. Dio mio, abbibita di me. Comunque, sorvolando sul fatto che, come ho sempre detto io, gli attori che interpretano Caracalla e Geta sono troppo bianchi, e il motivo lo vedremo in questo video, sono tanti, tanti errori. Ma oggi ci soffermiamo sulle figure di Caracalla e di Geta, e del loro pessimo, terribile, distruttivo, disastroso, complicato rapporto. Se poi, dopo averlo visto, se lo vedrò, vorrò fare un video anche sul film, vedremo. Perché prima o meno il trailer, diciamo, mi ha procurato diversi scompensi. Per fortuna, tra qualche giorno esce Those Were Ready to Die, quella con Anthony Hopkins, sui Gradiatore e su Vespasiano, e quella forse un video se lo merita, forse. Di sicuro, dopo quella potrei fare un video su Tito e Berenice, forse. Comunque, tornando a noi, io non sono un antichista, si è chiaro. Ma le dinastie romane che conosco meglio sono i Giulio Claudi e anche i Severi, perché sono sempre interessanti, strani, ma interessanti. Come già detto, parte dell'interesse che hanno suscitato deriva dal penultimo appartenente alla dinastia, si elogavano, ma anche prima di pettevolezzi, di voci ce n'erano. E cominciano quando il quarantenne, Settimio Severo, rimane vedovo. Allora, Settimio Severo non è romano, non è italiano, e tantomeno può essere considerato di etnia romana doc. Ha una nonna di origini italiane, ma lui è nato in Africa, o meglio, in quella che oggi è l'Algeria, Tunisia, Libia, insomma, e di etnia berbera principalmente. Quindi già qui capiamo che il casting del film è sbagliato. Bene, rimane vedovo, è un soldato, un comandante molto capaci, ma con un piccolo, piccolo difetto. Per i storici odierni, quantomeno per la mente età di oggi, all'epoca non lo era, ossia, è superstizioso. Cosa c'entra? Beh, per trovare la sua seconda moglie, Settimio Severo si affida agli astri. E gli astrologi gli consigliano di andare a Demesa, ad interrogare i sacerdoti locali. Quindi, Settimio Severo si reca a Demesa, in Siria, e interroga il sacerdote Bassiano. Bassiano è una figura molto importante nella storia locale e avvolta nel mistero perché fa la sua comparsa ufficialmente nella storia con l'S maiuscola proprio quando la sua strada si incrocia con quella di Settimio Severo. Sembra, infatti, sembra, che fosse niente meno che un discendente di Cleopatra Drusilla, l'unica figlia sopravvissuta di Petrolomeo di Mauritania, figlio di Giuba di Numidia e di Cleopatra Selene, figlia di Cleopatra e Marco Antonio. Quindi sembra che in qualche modo avesse anche lui sangue imperiale. E sembra, sembra, che fosse un antenato niente meno che di Zenobia e di Palmira. Sembra, sempre, sembra, perché in queste genealogie orientali non si capisce mai nulla, all'epoca i romani non interessavano, quindi è tutto avvolto nel mistero. Comunque, Bassiano è il gran sacerdote a Demesa del dio Elgabal, da cui il suo opero li porta e prenderà il nome. E di fatto lui si occupa sia del tempio che di un monolite che è la rappresentazione del dio. Bene. Quando Settimese Vero gli parla di questo oroscopo, Bassiano appizza le recchie, come si dice dalle mie parti, perché anche lui ha avuto un oroscopo simile, ossia che una delle sue figlie sposerà un re. E forse questa è l'occasione buona, perché Settimese è vero ancora non sarà un re, ma sembra che possa in qualche modo fare ancora più carriera. Quindi gli presenta le donne della sua famiglia, che sono quattro. La figlia più grande, Giulia Mesa, è già sposata e ha due bambine, che sono Mamea e Simiana. Ma comunque se anche sposate si può arrangiare qualcosa. E poi c'è l'altra, la seconda figlia, Giulia Domna, di 16 anni. E quella Settimese Vero gli piace, perfetta l'età, perfetto tutto, uguale quella. Bassiano probabilmente per la felicità accende un cielo più grande del monolite e il matrimonio si celebra. Giulia Domna, come ci ha detto, è stata come la sorella, sacerdotessa anche lei di El Caballo e porterà queste influenze e questi riti orientali a Roma. Ma ci arriviamo con calma. Appena un anno dopo il matrimonio, Domna ha il primo figlio, il futuro Caracalla, e tre anni dopo ha getta. Bene. Quando Caracalla ha cinque anni, suo padre diventa imperatore e quindi trasferisce tutta la famiglia a Roma. Sebbene lui a Roma non è che ci sia morto, Settimese Vero è più un soldato, un comandante, quindi passerà tutto il suo regno a combattere per l'impero. Questo è importante. Quindi i ragazzi crescono con la madre e i vari precettori e raggiungono il pari solamente quando sono abbastanza grandi per essere utili. Infatti durante la campagna militare in Inghilterra all'epoca britannica Settimese Vero li vuole con sé e li distribuisce. Ossia getta che è il minore ma anche quello che siamo più oculato più attento lo mette nell'amministrazione ossia si occupi dell'evento vai di amministrare i territori conquistati e via dicendo. Caracalla invece che è più impulsivo più testato più sanguinario sia con lui e impari come indirizzare questa diciamo violenza. Qui c'è una cosa un po' strana dalle fonti ossia inizialmente ci dicono le fonti ossia principalmente la storia a Augusta che oggi è messa molto in discussione Caracalla era un bambino timido poco amante della violenza che addirittura piangeva quando assisteva alla morte di un animale ma che con la adolescenza in qualche modo si è guastato forse diciamo forse stando così a contatto con questo mondo militare molto violento molto sanguinario con queste conquiste si è preso gusto forse gli intrighi qualcuno sostiene che fosse il sangue materno perché orientale quindi depravato viziato che avrebbe corrotto non si sa sappiamo che il bambino timido e spaventato diventerà un adulto sanguinario tirannico e leggermente psicotico ma veniamo quindi a quando Settimese Vero ha di muore e i suoi figli hanno 18 e 15 anni di ragazzini e diciamo vengono nominati entrambi imperatori sì questo è strano perché Settimese Vero che ha fortemente criticato Marco Aurelio per aver dato l'impero a Comodo suo figlio fa la stessa cosa con i suoi figli lui sa che i suoi figli non sono adatti al momento per fare gli imperatori potrebbe scegliere qualcun altro ma no lui vuole più che due insieme come co-imperatori o perché in qualche modo è un cini che è un disilluso e quindi pensi io lavoro me l'ho fatto adesso non mi ne frega più niente organizzatevi voi o perché come padre pensa che in qualche modo dove essendo costretti a lavorare insieme a stare a stretto contatto lui impari a stimarsi a volersi bene e crei in un buon impero può essere o forse perché non mi ne frega niente nemmeno dei figli infatti sembra che abbia trattato entrambi i figli come se fossero degli idioti in un'occasione semi-legendaria durante la campagna in Britannia Caracalla gli punta la spada contro e se Tim si mette a ridere insomma proprio un livello di menefragismo alto non gli da nemmeno quattro ceffoni o lo riprende in pubblico no ma è nefragismo assoluto ed è il motivo per cui i ragazzi sono molto affressionati alla madre e ora veniamo al vero problema Caracalla e Geta non si sopportano si odiano c'è una piccola differenza dettagli tra loro e sembra che Domna non abbia mai fatto preferenze ma nonostante questi due non si sopportano odiano stare nella stessa stanza e affidare loro l'impero congiuntamente è un rischio grandissimo anche perché si mormora che in realtà Caracalla non sia figlio di Domna ma sia figlio di una concubina e che se time severo abbia imposto a Domna di crescerlo come figlio suo è per questo che Caracalla non sopporta Geta perché Geta sarebbe legittimo e lui no è un'ipotesi che servirebbe anche a giustificare un'altra voce un pettegolezzo che negli anni prenderà sempre più forma e consistenza finendo per rovinare tutto comunque gli storici hanno individuato tre diversi pattern per diciamo gli imperatori più sanguinari o comunque interessanti a livello medico ossia da un lato abbiamo i Giulio Claudi che arrivano all'imperium dopo anni di attese tribolazioni massacri quindi sono tutti a livello diverso dei paranoici non si fidano di nessuno e conoscono benissimo i sacrifici che hanno fatto o che gli altri hanno fatto per loro per farli arrivare a questo traguardo quindi sono sempre su chi vive e ogni tanto buttano giù interi rami della famiglia cioè Tiberio ha massacrato il terreno della sua famiglia Claudio quando arriva al potere dopo la morte del nipote Caligola si ritrova con un unico diciamo erede il pronipote Nerone certo gli nascerà suo figlio britannico ma britannico nasce quando è già imperatore di fatto Caligola stesso si ritrova con diciamo altri appartenenti della famiglia imperiale solamente con Claudio e Nerone e basta insomma è una disgrazia quello che era un albero genealogico popoloso alla morte di Augusto appena 50 anni dopo con Nerone è praticamente rimasto un solo l'anno un rametto con Nerone quindi capiamo che la paranoia e tutto il resto di Giulio e Claudio sono otto salvatati abbiamo poi Domiziano il quale ricordiamolo è ventenne perché tra lui e il fratello Tito ci sono molti anni di differenza quindi lui è cresciuto sì in un clima un po' di terrore ma anche di lassismo quando il padre diventa imperatore ha visto tutto si ricorda di tutto e come posso dire è smanioso di divarsa perché viene sempre ricordata la sua famiglia e verrà ricordato al padre e al fratello che loro non sono di qui sono dei provinciali non appartenenti a un'agenza importante quindi diciamo li sopportiamo ma non sarete mai come noi a Vespasiano noi non è importato niente a Tito nemmeno ma per domizioni è diverso quindi gran parte dei suoi anni sono mirati a questo ossia a cercare una rivarsa anche violenta contro i senatori e poi abbiamo Caracalla e Comodo i quali non hanno ricordi diciamo di un'infanzia traumatica come i precedenti perché i loro genitori sono divenuti imperatori quando hanno 5 e 7 anni 5 ne a Caracalla 7 ne a Comodo quindi non ricordano un'altra vita sono cresciuti tra gli aici il permessivismo e sono stati abituati a considerare l'impero come loro sarà loro per diritto ereditario non pensano di conquistarlo o di fare qualcosa per meritarselo o anche di sopravvivere giorno per giorno e questo cambia perché i loro aspetti peggiori vengono come dire amplificati vengono condonati e quindi torniamo all'arrivo di Caracalla e getta a Roma bene i due arrivano e fin da subito fin da subito le situazioni si fa grave come già detto non riescono a stare nella stessa stanza si detestano vorrebbero vedere l'altro morto e però bisogna in qualche modo organizzarsi come fare beh nel 211 si trova una soluzione temporanea ossia i due alloggi unirnale diversi del palazzo ed evitano di incontrarsi addirittura secondo una leggenda postuma vivranno in due palazzi diversi uno sul Gianicolo e uno sul Desquilino ed entrambi cominciano a ragionare sui senatori perché la guerra civile potrebbe essere imminente e c'è una differenza ossia getta preferisce essere amato e rispettato Caracalla preferisce essere temuto quindi getta più partigiani e nel giro di un anno la situazione diventerà così grave così tesa che i senatori hanno un'idea dividiamo l'impero in due perfetto e preciso a getta diamo la parte diciamo europea con capitale Roma e i senatori italiani rimangono a Roma con getta a Caracalla diamo la parte orientale con capitale Antiochia ma anche l'altra città di sottadimento e i senatori di origine asiatica andranno con Caracalla per evitare diciamo altre preoccupazioni mettiamo delle legioni ai confini in maniera tale che nessuna di due pensi ha un colpo di testa idea interessante ma che all'ultimo diciamo non avviene narra la leggenda infatti perché qui si tratta di leggende quasi sempre che quando i ragazzi hanno accettato questo accordo sanno tutti pratificarlo la donna intervenga e dica bene voi avete diviso l'imparo in due ma avete dimenticato una cosa me come facciamo io non verrò con sette dei miei figli a dover scegliere tra di loro quindi uccidetemi e seppendite una parte di me in Europa e un'altra parte in Asia e i due rinunciano la propaganda quindi darà contro Giulia Domna che ha evitato quello che poteva essere una soluzione ma appunto sembra più un racconto di propaganda perché ricordiamolo i severi non sono italiani non sono romani ma sono a mixed race come si direbbe oggi padre berbero e madre siriana con Roma tranne forse questo legame del nonno bastiano con Marco Antonio non hanno nulla a che spartire sono nuovi sono un corpo estraneo e i romani principalmente i senatori lo percepiscono e fidando dell'antico assioma in parte ancora in uso oggi sia asiatico quale Devo e Bravato inventeranno tutta una serie di storie che possono essere vere verosimili completamente falsi comunque l'accordo non viene fatto e oggi sembra che non sia stato nemmeno tentato sia solo una speculazione anche perché non è detto che avrebbe funzionato sia chiaro mi sembra un accordo molto facilone che poteva essere rotto da un momento all'altro comunque Giulia Donna al momento rimane a Roma con i figli e la sorella perché si è fatta diciamo raggiungere da Giulia Mesa e dalle sue bambine che ormai tante bambine non sono perché sono entrambe sposate tra l'altro ma Mea ha avuto da poco un bambino il futuro imperatore Elegabalo e Simea è incinta di Alessandro Severo quindi le quattro Giulia in qualche modo stanno bene a Roma sono trasferite e Mesa è stata abbastanza curva da trovare alle figlie dei mariti romani per integrarli anche perché ha visto che i dipoti per integrarsi non stanno facendo nulla ti è chiaro non si vogliono integrare nei costumi romani tranne i peggiori vi dico tranne i peggiori perché i controlli alla loro mensa o meglio alle rispettive mese sono così stretti che Chieta e Caracalla capiscono che non potranno avvelenarsi la vicenda insomma il veleno ed escludere per entrambi sì siamo arrivati a questo punto nemmeno un anno è passato e i due già pensano come uccidersi cominciamo bene l'evento avviene il 26 dicembre del 212 e diciamo è un evento che tutti si aspettavano tutti erano sicuri che più o po' sarebbe avvenuto ma non si aspettavano che avvenisse così facilmente così repentinamente così sanguinariamente perché rimane impresso nella memoria collettiva romana ossia Caracalla chiede al fratello di raggiungerlo perché vuole parlare con lui e con la madre donna che a sentire anche questa richiesta accetta di buon grado forse i figli finalmente sono giunti a più miti consigli forse vogliono un suo aiuto per riconciliarsi forse vogliono elaborare un sistema per governare pur senza vedersi in qualche modo si dice accettiamo bene getta si reca dalla madre c'è Caracalla i due cominciano a discutere domino ogni tanto interviene e a un segnale di Caracalla arrivano dei centurioni con delle spade getta quindi ha capito cosa sta accadendo è terrorizzato ricordiamolo appena a 16 anni raggiunge subito la madre implorandola di salvarlo domino quindi si mette davanti al figlio per proteggerlo ma Caracalla comunque ha un'idea e la vuole portare fino in fondo infatti centurioni si avventano su getta lo strappano da Giulia donna e lo uccidono si conteranno sul suo corpo dicono le leggende qualcosa come 30-40 colpi qualcosa insomma un massacro e sono così incuranti di quanto accade perché Caracalla ha promesso loro un donativo bello grande che arrivano a ferire donna che cerca in tutti i modi di salvare il figlio quindi ritrovandosi di fronte al caravere del figlio Giulia donna scoppia a piangere fisiologico e patologico ha assistito ad un evento traumatico e deve accettare il fatto che il figlio maggiore ha dato ordine di ucciderle il figlio minore davanti ai suoi occhi pregandosene di lei ma Caracalla le ordina di non piangere di non portare il lutto e vederà alla madre alla zia e alle cugine e a tutta Roma e poi a tutto l'impero di piangere Geta Geta non merita il lutto non merita una sepoltura che infatti avverrà dopo la morte di Caracalla quello che ne rimane e soprattutto da inizio a una grandissima purga dei sostenitori di Geta tra l'altro per essere etichettati come sostenitori di Geta basta una parola di cordoglio così una cosa molto semplice insomma quindi si stima che almeno 20.000 persone in tutta Roma sono state uccise per non dire numeri nell'impero qualcosa un massacro sistematico tremendo si rivolge Caracalla a un giurista chiedendogli di scrivere diciamo un elogio del faticidio il giurista rifiuta Caracalla lo può uccidere può uccidere il suo vecchio precettore che lo ha rimproverato per questo anche perché Caracalla si giustifica di fronte al senato e al popolo sostenendo che no lui non ha ucciso il fratello per diciamo per poter regnare da solo perché lo odiava ma perché Geta lo odiava di più aveva architettato un piano per ucciderlo e lui è giusto prima è legittima difesa ovviamente non ci crede nessuno ma a Roma comincia a prendere voce un pettegoleso che sarà l'inizio della rovina dei severi etichettati sempre di più come dei depravati orientali progettutto infatti dice questo pettegoleso per quale motivo secondo voi Caracalla ha ucciso Geta per il potere no questi asiatici non sono come loro del potere non importa sono tutti dei depravati sanguinari il motivo è un altro è la gelosia si dicono i romani gelosia sì Caracalla e Geta si dividevano la stessa donna ma dopo un po' si erano stancati e Caracalla la voleva tutta per sé chi è questa donna misteriosa si dicono i romani beh ma la risposta è una viene come risposta chi è che governa tutto chi è che si occupa di tutto e come può averlo ottenuto Giulia Donna si rispondono quindi sì secondo i romani pur di mantenere il potere Giulia Donna avrebbe intrapreso due relazioni incestuose con i suoi figli principalmente con Caracalla anche fidando di questa voce secondo cui Caracalla non serve logicamente suo infatti si narra poco dopo essere divenuto imperatore Caracalla vede la madre o la matrigna se è seminuda e le chiede o meglio le ordina di giacere con lui domna risponde che in quanto imperatore lui può fare quello che vuole e quindi Caracalla di nascosto la sposa quindi i due hanno una relazione ma domna nell'eventualità che le cose possono cambiare ha una relazione anche con Geta quindi i due fratelli sono non solo rivali per tutto il resto ma per il potere ma anche rivali in amore e Caracalla quindi stufa di questa cosa può uccidere il fratello rivale sembra un po' troppo beautiful e un po' troppo Targaryen per essere vero eppure i romani ci credono cioè non sono disposti ad accettare che un siriano africano abbia fatto uccidere il fratello per prendersi tutto il potere ma sono disposti a credere che abbia sposato sua madre e che abbia ucciso il fratello perché geloso dell'amore che la madre dava al fratello noi italiani con il razzismo talvolta siamo strani va detto quindi sì la situazione è questa e tutte queste voci si rincorrono escono diciamo dei pamflet dei rotoli dei libri dove appunto si accusano Caracalla Geta ormai morto e Giulia Donna delle peggiore independenze si accusa Giulia Donna di aver prima diciamo provocato Caracalla per aver scelto Geta quindi Caracalla curiosa ha acceso Geta addirittura verrà trovato un rotolo in cui si dice che mentre Donna era con Geta è stata raggiunta da Caracalla che ha ucciso il fratello e poi ha detto madre tu lo amavi più di me e io non potevo tollerarlo da oggi tu sarai la mia unica donna capiamo capiamo che il livello di cringe di quegli anni è alto e questa decisione di non far piangere di Geta porta anche a tre vittime eccellenti infatti l'unica donna che ha il coraggio di fare le condugianze a Giulia Donna che comunque ha perso un figlio è niente meno che Faustina minore figlia di Marco Aurelio che è sorella della più famosa Lucilla quindi è probabile che nel film abbiano fuso entrambe le due figure perché ricordiamolo Lucilla è morta durante il regno del fratello Faustina è invece sopravvissuta e quindi possiamo ipotizzare che Rita e l'Escotto chi per lui abbia fuso le due sorelle vedremo ma è un'ipotesi comunque Faustina si reca da Giulia Donna a farle le condugianze e Caracalla non è che approvi molto anzi non approva per niente infatti da ordine a Faustina di uccidersi Faustina inizialmente non ci crede insomma è un what the fuck bello grande ma Caracalla insiste e siccome è figlia di Marco Aurelio lui dà una scelta può scegliere lei come morire su quello lui non mette in bocca ma si deve uccidere Faustina inizialmente pensa ancora che è uno scherzo si rivolge ai senatori si rivolge a chiunque ma nessuno può fare niente insomma Caracalla è proprio uscito di melone su questa faccenda già è iniziato la dannazio memoria di Geta diciamo scalpellandolo via da tutti i monumenti da tutte le iscrizioni non so se siete presenti il famoso tondo severiano in cui si vedono Settino e Severo Giulia Donna e Caracalla e Geta qui è stata proprio scalpellata via la faccia il volto non lo si vede più primo esempio di Cancel Corcer tra l'altro ma comunque Faustina alla fine è costretta a uccidersi tagliandosi le vede perché non vede alternative ma si dice qualcuno questa in realtà è una mossa non tanto rettata dall'oro per il suo padre quanto dal timore che qualcuno possa davvero ribellarsi insomma questo questo 212 si è chiuso con un massacro e qualcuno potrebbe ribellarsi anzi due persone tecnicamente avrebbero più credito di Caracalla al trono ossia e non non ci successe in la Grazie a tutti